Grazie di essere venuti, noi oggi siamo qui a presentare un'azione che stiamo concertando a tutti i livelli, il Movimento 5 Stelle vuole muoversi in maniera congiunta per affrontare il tema del gioco d'azzardo, gioco d'azzardo che non è un gioco, benché la parola a questo rimandi, è un fenomeno estremamente allarmante, tanto che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto essere una forma morbosa, chiaramente identificata, una malattia sostanzialmente, si chiama gioco ma è una malattia e noi siamo qui per affrontare questo tema in maniera molto forte e molto netta, in realtà parliamo di un fenomeno estremamente pericoloso che non solo determina una patologia nel giocatore, ma determina anche un impoverimento del giocatore e della famiglia stessa, considerate che dai dati che abbiamo, dati del CNR e dati comunque acclarati anche in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta contro la mafia, nel nostro paese circa il 42% delle persone ricomprese nella fascia d'età tra i 15 e i 64 anni, cioè 17 milioni di persone hanno giocato almeno una volta nell'ultimo anno, circa 2 milioni corrono il rischio di incorrere in questa patologia e un milione di persone sono sicuramente giocatori d'azzardo patologici, quindi affetti da gap. Questo è un dato gravissimo, un dato allarmante che a noi francamente fa inorridire, fa inorridire perché lo Stato vediamo in questi ultimi anni come lo Stato stia andando nella direzione di favorire il gioco d'azzardo, anziché prenderlo e studiarlo come fenomeno di pericolo sociale, vediamo una pubblicità sempre più massiccia e sempre più pervasiva su tutti i canali che incitano al gioco, al gioco lecito, la scusa è quella di sottrarre utenti al gioco illecito. Considerate che il CONAG, che è il coordinamento nazionale per gruppi per i giocatori d'azzardo, dice che l'Italia, che è sostanzialmente il paese che ha l'1% di popolazione mondiale, in realtà assorbe il 23% del mercato mondiale del gioco online e movimenta un patrimonio di circa 88 miliardi di Euro, ai quali vanno aggiunti circa 10 miliardi, ma la stima è ovviamente effettuata per stima, per approssimazione, circa 10 miliardi deriverebbero dal gioco illegale, allora con la scusa di sottrarre risorse al gioco illegale si tende a favorire il gioco legale e questo ovviamente con una pubblicità accattivante, una pubblicità fatta come se il gioco fosse un gioco e non una sorta di viatico per una vera e propria malattia, viene fatta con una pubblicità che tra l'altro piace anche ai giovani e soprattutto in un periodo come questo, nel quale la crisi economica ci fa vedere e ci fa sostanzialmente stringere la cinghia a tutti quanti, viene anche vissuto come l'unico modo e l'unico strumento attraverso il quale le persone possono riuscire a guadagnare qualche cosa, perché col lavoro non ci si riesce più, spesso il lavoro lo si perde e quindi diventa la soluzione facile e questa soluzione facile è incentivata dallo Stato. Allora bisogna anche farsi una domanda, ce la dobbiamo fare come cittadini anche ancora prima di farcela come politici, perché lo Stato sta favorendo tutto questo? Allora magari diamo un'occhiata alla composizione del governo e vediamo che almeno 7 dei ministri, tra i quali il primo ministro Letta, sono membri dell'associazione Vedrò, associazione che è finanziata dall'Automatica e da Sisal, allora è evidente che quando gli interessi e i legami sono così stretti e c'è un intreccio così forte tra lobby delle concessionarie, lobby del gioco e politici, è evidente che la politica non può che andare in una certa direzione, che casualmente, anche questa volta, è contro l'interesse e il benessere dei cittadini e favorisce determinati interessi privati. Allora noi francamente non possiamo tollerare questa situazione che è gravissima, che è allarmante e che deve essere assolutamente arginata. Come dicevamo ci stiamo muovendo a livello di gruppo, per quanto riguarda il comune e i municipi, vi comunichiamo di aver depositato mozioni e risoluzioni in tutti i 15 municipi e al comune, che tendono sostanzialmente a impegnare Sindaco e Giunta a adottare delle misure preventive, di prevenzione, per esempio effettuando delle campagne di sensibilizzazione all'interno degli istituti scolastici e all'interno dei centri anziani, ma anche occorre affrontare il momento successivo, quindi non solo una campagna di prevenzione, ma anche una campagna di cura, nel momento in cui il gioco d'azzardo è già diventata, non tanto un gioco appunto, ma è già diventata una malattia, quindi occorre aumentare le misure di cura e dare una stretta sostanzialmente alle possibilità e ai centri che consentano alle persone di trovare una struttura e un soggetto che li affianchi nel percorso di uscita da questa dipendenza, perché è una dipendenza vera e propria. Inoltre occorre rafforzare tutti quegli interventi che mirano a prevenire e impedire il gioco ai minori di 18 anni. Questa è la nostra prima attività in comune, ma i nostri tavoli di lavoro, come sapete noi lavoriamo per tavoli di lavoro, stanno già lavorando anche ad altro e stanno studiando ulteriori misure e ulteriori attività da proporre, perché comunque la tematica è estremamente importante, estremamente delicata e non possiamo affrontarla in maniera leggera, deve essere affrontata in maniera molto determinata e quindi noi ci stiamo impegnando a livello locale, Massimiliano Enrico Baroni e gli altri parlamentari del Movimento 5 Stelle la stanno invece affrontando in maniera nazionale, cercando di andare a colmare una serie di gravissime lacune che nel corso degli anni si sono determinate. Grazie Virginia, io penso proprio che Virginia abbia colto diverse questioni che sono fondamentali, come Movimento 5 Stelle noi siamo stati assorbiti da moltissime tematiche e soprattutto da decreti che il governo continua a proporre al Parlamento in via d'urgenza. A me sembra che una delle grandi urgenze del Paese sia questa difficoltà che il Paese in questo momento sta avendo in merito a come riuscire a coinvolgere i cittadini in un progetto culturale, in un progetto produttivo che coinvolga quindi la comunità e vediamo come effettivamente la politica abbia completamente perso la trebisonda perché noi abbiamo in questo momento il gioco d'azzardo che è la terza impresa del Paese, abbiamo le persone che maggiormente spendono nel gioco d'azzardo che sono la popolazione fragile, stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di anziani, stiamo parlando di disoccupati perché molti dati affermano che sono proprio le categorie che in quel momento imprenditorialmente in difficoltà, che si buttano in maniera autistica in queste sale da gioco per cercare di risolvere problemi e preoccupazioni di tipo economico che ovviamente hanno tutti gli imprenditori del Paese, tutti i piccoli e grandi imprenditori, per cercare di isolarsi e creare magari anche una soluzione ai problemi economici della sua famiglia e della sua azienda. È ovvio che nel momento in cui il Paese è in uno stato di profonda insicurezza sociale che deriva dalla recessione, dalle difficoltà che abbiamo nel riuscire a far funzionare un sistema economico che è completamente abbandonato a se stesso perché non c'è una visione di ciò che è sano, di ciò che è coinvolgente, di ciò che può essere condiviso, le persone che provano a fare economia si trovano sempre di più a scivolare nell'abbandono sociale. Questo è il fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. Abbiamo praticamente dal 2004 al 2012 una curva praticamente di tipo iperbolica nel fatturato del gioco d'azzardo, passiamo da 24,8 miliardi del 2004 a 88,5 del 2012, quindi non è una curva neanche normale, è proprio iperbolica. Abbiamo tutta una serie di questioni che nel momento in cui c'è stato il boom delle slot e delle VLT, soprattutto praticamente queste non sono state collegate alla rete perché bisognava saturare il mercato. Voi sapete benissimo che a Roma l'unica cosa che vedete di acceso, l'unica cosa che vedete di funzionante, l'unica vita che vedete è nel momento in cui girate per Roma, vedete gente che entra e che esce, a volte in maniera anche trascurata, da questi punti VLT o da questi punti slot, perché sono le uniche cose che aprono a Roma, tutto il resto chiude. Io vi potrei sviscerare moltissimi dati, vi posso semplicemente dire che in questo momento noi stiamo facendo una proposta di legge che è stata presa, vagliata e discussa insieme alla campagna nazionale Mettiamoci in Gioco che comprende il gruppo Abele, Leacli, Feder Consumatori, il gruppo Libera che ha creato un dossier che si chiama Zardopoli 2.0 che vi invito ad andare a guardare perché se avete il gusto del terrore penso che vi divertirete parecchio. Questo dossier praticamente parla di cifre in cui la realtà supera la fantasia, ma rimaniamo alle politiche locali che il Movimento 5 Stelle propone anche a livello di Camera dei Deputati e a livello nazionale. Noi come prima richiesta della nostra proposta di legge che al momento non è ancora online perché è una proposta di legge che già comprende 20 articoli e probabilmente diventeranno 22 o 23, abbiamo la modifica della legislazione vigente per aumentare il controllo sulla diffusione degli strumenti di gioco sul territorio perché il Sindaco ha la responsabilità sanitaria ovviamente della sua città e questo darebbe maggiore indipendenza al Sindaco e ai consiglieri municipali e consiglieri comunali per regolamentare gli orari e i luoghi e anche eventualmente escludere popolazione a rischio. Quindi proponiamo una modifica dell'articolo 50 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali. Poi c'è un problema delle tasse, c'è un'enorme variabilità della tassazione dei giochi perché noi crediamo in maniera importante che ci siano delle collusioni straordinarie tra il mondo dei concessionari, tra l'ente che dovrebbe monitorare questo mondo dei concessionari che è l'autorità autonoma dei monopoli dello Stato che poi si è unificato con quello delle dogane in cui troviamo persone come Tagliaferri che è stato riallocato dopo una condanna all'interno della stessa ente di controllo ed è diventato praticamente lo stratega a livello tra i funzionari dei monopoli dello Stato per il gioco d'azzardo e lui aveva già subito una condanna, lascio a voi andare a vedere di che cosa stiamo parlando. Un altro punto a cui io tengo è perché praticamente quando parliamo dell'autorità autonoma dei monopoli dello Stato noi parliamo di uno Stato nello Stato. Noi parliamo di funzionari e dirigenti spesso molto vicini, vediamo la sorella di Alemanno, spesso molto vicini al mondo della politica, al mondo delle fondazioni che praticamente danno la politica al governo su cosa legiferare, su che tipo di decreti governativi devono far passare al Parlamento. Il Parlamento sappiamo bene che non riesce a stare dietro a questi lavori, non si specializza, non studia, non si fa carico delle problematiche dei cittadini nazionali e quindi non vengono fuori queste cose, non vengono fuori che praticamente abbiamo il grande policy maker che dovrebbe essere il Parlamento e invece l'autorità autonoma monopoli dello Stato perché dà la direzione a tutti. Questa cosa è assolutamente intollerabile considerando la zona grigia che abbiamo tra le concessionari, l'ente autonomo monopoli dello Stato e il governo. Questa zona grigia è anche rappresentata dallo stesso Giorgitti che ha una delega a dir poco morbosa nei confronti della gestione per il governo in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo, una regolamentazione da cui noi non ci possiamo assolutamente levare, non ci possiamo assolutamente sottrarre. Parliamo di uno Stato che guadagna sull'intero giocato italiano che sono 88,5 miliardi, uno Stato guadagna solo 10%, io non capisco come mai il piccolo panificio sotto casa, magari in questo caso no, però il pizzicarolo sotto casa paga il 20% di tasse e sull'indotto del gioco d'azzardo noi abbiamo un 10% di tassazione totale, in cui i giochi su cui l'italiano gioca di più, parliamo di nuovo di un italiano fragile, di un italiano confuso, di un italiano in difficoltà, di un italiano patologico, perché abbiamo un milione, come ha detto prima anche Virginia, abbiamo un milione di giocatori d'azzardo patologici secondo la commissione parlamentare antimafia. Abbiamo lo stesso Beppe Pisano che praticamente afferma che per ogni Euro giocato a livello legale c'è un indotto intorno di tipo indiretto di 8 Euro di attività illecite che praticamente creano indotto per le attività mafiose e criminali, tutti questi sono dati pubblici e io credo che un giornalista se si dedicasse un mese di studio potrebbe veramente fare una carriera su questi dati, perché come dai una schicchera a questo mondo? Escono fuori le croste e il bus. Questa è una mappa concettuale che ho tirato giù in 5 minuti, perché i dati che noi abbiamo in materia non di protezione delle persone che sono già patologiche o delle persone che praticamente creano grandissima sofferenza alle loro famiglie, io adesso mi fermerei un attimo perché è un tema che mi appassiona molto e abbiamo fatto grazie anche ai collaboratori che ci stanno dietro, il Movimento 5 Stelle, anche uno studio comparato di tutte le proposte legislative in materia di gioco d'azzardo e di gioco d'azzardo patologico, quindi abbiamo confrontato tutte le altre proposte che sono state depositate, ne hanno depositate 19, sono in visione solo 12 e praticamente si riesce immediatamente a vincere che c'è un enorme copia in colla, cioè i legislatori non riescono ad avere una visione della problematica in questo momento nel paese, di come incentivare il gioco sia in verità sottrarre risorse importanti, creative, esplorative al paese, magari risorse di persone creative che però in quel momento sono sotto scacco per la crisi economica, quindi abbiamo un mondo veramente rovesciato. Io ripasso un attimo la palla a Virginia perché ha fatto una mozione con tre punti che sono importantissimi e che sono comprese nella nostra proposta di di legge. Io per concludere vorrei anche dire una cosa, prima stavamo parlando insieme di quella che è stata un po' l'iter delle nostre attività, noi in comune e nei municipi, loro all'interno delle commissioni parlamentari e quello che mi è piaciuto anche come proposte positive, immediate, anche di semplice percezione, è quello che stanno inserendo per esempio per quanto riguarda il divieto della pubblicità, cioè noi vieteremo la pubblicità del gioco d'azzardo, perché se il gioco d'azzardo crea dipendenza e crea malattia e crea povertà, allora la misura che lo Stato deve adottare è il divieto della pubblicità, non c'è un'altra via. Noi stiamo inserendo all'interno di questa proposta l'obbligo dell'etichettatura per le macchine, per i gratta e vinci e per internet, obbligo di etichettatura che dovrebbe riportare con la formula che si vorrà poi adottare nello specifico, ma comunque questo messaggio, il gioco crea dipendenza, il gioco può ridurti in povertà, inoltre il gioco deve essere vietato ai minori di 18 anni, sono cose molto semplici, sono cose che possono essere fatte immediatamente, vogliamo capire e dobbiamo testare il governo su queste che sono cose semplici e immediate per effettivamente poter toccare con mano dove vuole andare questo governo di larghe intese, perché le larghe intese dovrebbero anche ricomprendere un po' il benessere dei cittadini e non solo il benessere di chi in queste larghe intese ci entra. Un'altra misura molto interessante è la creazione di un osservatorio partecipato dal Ministero dell'Istruzione, il MEF, l'Anci, le associazioni di cura del GAP e associazioni di volontariato sociale, sostanzialmente per elaborare delle linee guida per la prevenzione del gioco d'azzardo. Inoltre mi sembra, se tu mi consenti, io posso già dare questo dato, una delle misure che sostanzialmente poi vanno anche nelle direzioni auspicate dal Movimento 5 Stelle e che lui giustamente stava prima riprendendo per quanto riguarda i dati economici, noi vorremmo che l'1% di quanto percepisce lo Stato e dell'indotto probabilmente del giocato, sia dedicato e destinato a un fondo per la cura di queste malattie e il 2% sempre dell'indotto vada a costituire sostanzialmente il fondo per il reddito di cittadinanza. Signori, noi i soldi li abbiamo, lo Stato i soldi li prende dove li vuole prendere e poi ovviamente non li prende dal gioco d'azzardo, non li prende per esempio dalle transazioni finanziarie, però va a colpire sempre i cittadini, va a colpire sempre le imprese, ricordiamoci che negli ultimi anni noi abbiamo avuto quasi un suicidio di un imprenditore al giorno, è un dato gravissimo per l'Italia che è un paese nel quale la ripresa economica stenta effettivamente a decollare, allora quando gli imprenditori che sono persone che rischiano il loro capitale, rischiano la loro vita, il loro tempo, le loro risorse per provare a creare qualcosa di nuovo, per provare a dare lavoro a qualcun altro e schiacciati dalle tasse non riescono ad andare avanti e non riescono a guardare in faccia i dipendenti e arrivano a suicidarsi, vuol dire che c'è qualcosa che si è rotto e lo Stato non sta facendo niente, allora andare a pescare i soldi sempre dalle stesse persone, quando i soldi ci sono e dovrebbero essere presi, questa è una delle prime cose che debbono assolutamente essere proprio riorganizzate, reindirizzate, perché altrimenti lo Stato non è proprio degno di chiamarsi contatto. Altri due piccoli incisi, sempre in materia di dati che sono estremamente interessanti, noi conosciamo gli Stati Uniti, io sono per metà cittadino americano, noi conosciamo gli Stati Uniti perché c'è Las Vegas, molti italiani vanno anche là, no la Las Vegas è qui, perché noi abbiamo il triplo delle VLT, che sono delle macchine praticamente deregolamentate, impazzite, che hanno un ritorno di giocato che arriva fino a 144 mila Euro prima di restituirti i soldi che hai giocato, mentre le slot 12 mila Euro, a livello pro capite noi abbiamo il triplo delle VLT, che sono veramente queste macchine infernali, sono molto più pericolose delle slot machine, hanno un preu, hanno un prelevo erarale unico che è del 4% a fronte del 12,5% delle slot, quindi chi ha un piano, chi ha una visione, chi propone una regolamentazione sono le grandi sorelle del gioco d'azzardo, lo Stato non ha un piano, non ha un piano di difesa, figuriamoci se ha un piano di sviluppo e è ovvio che ci sono tutti i leciti sospetti per pensare che lo Stato sia colluso, che lo Stato sia fondamentalmente complice, quindi questo è un dato importantissimo per quanto riguarda le prime due regioni che hanno giocato di più, indovinate quali sono? Lazio e Abruzzo hanno giocato per i primi 10 mesi del 2012, 4 miliardi e 165 milioni, non ci vuole un genio, un premio Nobel per capire che questi sono soldi che potevano essere in qualche modo incentivati ad un investimento e ad un'allocazione di tipo virtuosa in un principio locale, invece sappiamo bene dove sono finiti e come poi anche la vincita, perché il 75% di payout che è la vincita, molto spesso da parte del giocatore viene immediatamente rigiocato, viene immediatamente perso, perché poi il giocato è una curva bimodale, c'è un giocato che ti ridà 5-10 euro, 15 euro, tra i 500 euro la curva della vincita è estremamente bassa, per cui tu hai moltissime vincite di bassa, come si dice, assolutamente, perché si sa benissimo che il giocatore tendenzialmente o essendo a rischio patologia o essendo già patologico, lo rigioca immediatamente, non ci sono vincite sostanzialmente di 14.000 euro, diciamo vincite intermedie, poi c'è la vincita che ti permette di vincere il win for life, il sogno di una vita in cui devi riuscire a cogliere un gratt e vinci, se tu stendi tutti i gratti e vinci che abbiamo nel famoso miliardario da 5 euro, arriviamo da Milano a Potenza, tutti i gratti e vinci stesi come lunghezza, ce n'è uno, tu hai la possibilità di vincere il super miliardario, ce n'è uno tra questi, quindi non lo so quanto bisogna camminare, se effettivamente chi gioca abbia la reale percezione di quello che sta facendo, oppure se forse abrogando leggi inutili dobbiamo tornare a una situazione sostanzialmente precedente a quella che abbiamo adesso, in cui c'è una liberalizzazione selvaggia fatta apposta in termini di tassazione come i giochi online, i giochi online sono tassati dell'1% e aumentano del 12,6% all'anno, in cui la possibilità di controllare il giocatore è minima, il minorenne facilmente può utilizzare una carta di credito di un familiare. Poi io ripasso la parola a Virginia perché veramente il tema non solo è scottante ma in materia di approfondimento. Io penso che forse come conferenza stampa, come illustrazione un po' di quelli che sono i punti fondamentali siamo stati direi abbastanza esaurienti, lasciamo tempo per le domande se ne avete, siamo a vostra disposizione. Grazie. Questa è una domanda che in realtà se posso rispondere non credo si limiti solamente al gioco d'azzardo, il sistema delle amicizie come tu lo hai definito è un sistema che definire amicizie diciamo è fargli proprio una grande gentilezza, qui parliamo di un sistema di collusione e di collusione di poteri, mettiamola così, dello Stato e del non Stato, tu l'hai chiamata mafia, la possiamo chiamare come vuoi. Il sistema per combattere tutto questo è ripristinare la legalità, è fare luce su tutte le zone d'ombra che più siamo dentro e più vediamo che sono vaste, in realtà io da quando sono entrata in comune e con questo non voglio dire, adesso non sto parlando di mafia, però a livello di cattiva gestione a me sembra che ci sia veramente poco da salvare, per cui il sistema per combattere tutto questo è ricominciare piano piano a ricostruire lo Stato, a ricostruire la buona amministrazione, a far saltare i sistemi di amicizie, i sistemi di potere, a fare luce in tutte quelle zone d'ombra e questo non si tratta solo del gioco d'azzardo, questo non si deve limitare al gioco d'azzardo, questo si estende un po' a tutti i campi dell'attività amministrativa che spesso è stata un po' inquinata da queste amicizie, mettiamola così. Io vorrei rispondere anche in merito a questo discorso perché è importantissimo, è uscito da poco un articolo sul Fatto Quotidiano che mi ha veramente impressionato per i numeri perché la sensazione ce l'abbiamo tutti, ma stiamo parlando che a fronte di 3.000 consiglieri regionali, a fronte di 1.000 parlamentari, a fronte di non so quanti consiglieri comunali in Italia, quindi stiamo parlando di ordini di alcune decine di migliaia, forse 30.000-35.000 amministratori politici, noi abbiamo 1.200.000 persone che vivono sulla base delle nomine di di questi politici, cioè lo Stato paga tra consiglieri di amministrazione, dirigenti, funzionari a chiamata diretta, paga 1.200.000 persone che vivono sulla base di nomine fatte dallo Stato. Io non so se questi siano numeri sostenibili, per me sono veramente numeri che esprimono chiaramente il bubone che noi dobbiamo cercare di incidere con profondità, ma è la stessa logica che abbiamo in termini di numeri sul gioco d'azzardo, noi abbiamo moltissime proposte positive che derivano da leggi europee che funzionano, proponiamo gruppi di autoaiuto in convenzione su tutti i municipi, su tutti gli ambulatori d'Italia, per quanto riguarda quindi una sanità di iniziativa, continuità assistenziale, con eventualmente persone che sono già ex giocatori d'azzardo patologici, che sono usciti da questo circolo malefico e possano ottenere un gruppo che notoriamente costa poco allo Stato, se lo Stato si fa carico del costo della cura di questa patologia, perché noi in questi anni abbiamo avuto con una mano lo Stato che crea patologia e con l'altra che la deve curare. Ovviamente creiamo un business che è assolutamente pervertito, perché stiamo parlando di un circolo chiuso in cui ci sono malati e persone che inducono la malattia. La proposta di legge che uscirà a breve, probabilmente una settimana, due settimane, che è una proposta non quella che è discussa in Commissione, ma la proposta di legge del 5 Stelle e abbiamo già parlato con, ci siamo già confrontati con le persone che hanno elaborato studiando il reddito di cittadinanza, noi prevediamo in questo momento un 2% di prelievo dall'intero giocato nazionale per andare a finanziare il reddito di cittadinanza, anche perché pensiamo che nel momento in cui diminuirà l'indotto del gioco d'azzardo, ovviamente il sistema economico italiano sarà maggiormente virtuoso, tale per cui ci sarà meno bisogno del reddito di cittadinanza, perché noi non vogliamo che gli italiani abbiano bisogno del reddito di cittadinanza, quella è un reddito di dignità per chi in quel momento non ha nessun tipo di introito a livello reddituale, che è una cosa ben diversa, quindi noi abbiamo agganciato una legge sulla terza impresa nazionale per cercare di riallocare le risorse, il nostro grosso sforzo è quello di riallocare le risorse in una visione che possa essere condivisa da parte di cittadini sani, ma anche arrabbiati, perché io e Virginia su questo siamo arrabbiati e non molleremo. Stiamo finendo di studiare i dati, abbiamo dei fari puntati, diciamo che prevalentemente per adesso abbiamo visto che nelle periferie c'è questa proliferazione probabilmente incontrollata, stiamo finendo di studiare i dati per poter avere un quadro numericamente preciso, il problema però ovviamente è unico poi dappertutto, pensiamo alla città come un'unica entità perché effettivamente da questo punto di vista non possiamo e non dobbiamo fare differenze tra centro e periferia. Questi dati sono pubblici, abbiamo dati dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del CNR, del Censys, abbiamo lavorato molti mesi per aggregarli, però una nostra fonte è la campagna nazionale Mettiamoci in Gioco, che comprende associazioni come Acli, Feder Consumatori, il gruppo Abele, che a loro volta avevano già aggregato questi dati, quindi in buona parte li trovi già su internet, perché loro stanno facendo un lavoro come cittadini coinvolti da questa problematica già da molti anni, il Conaga ha preso in carico più di 3.000 giocatori d'azzardo patologici e dichiara di averne guariti e curati oltre 1.500 senza nessun tipo di sovvenzionamento dallo Stato, è un'associazione e ovviamente hanno fatto uno studio sistematico ed è possibile se tu vai a vedere la campagna nazionale Mettiamoci in Gioco, trovi moltissimi dei dati che noi abbiamo detto oggi e oltre anche alla Commissione Parlamentare Antimafia che ha fatto molte dichiarazioni che sono assolutamente in linea, poi ci sono dei dati di tipo europeo, ma la cosa interessante è che l'AMS aveva dichiarato, l'autorità autonoma monopoli dello Stato a un certo punto non voleva più fornire dei dati alla cittadinanza perché dice che praticamente i dati creano la sponda per luoghi comuni che non va bene che i cittadini siano a conoscenza, questo è uno dei famosi scandali, quando parlavo di uno Stato nello Stato, un funzionario dell'autorità autonoma monopoli dello Stato che dice no, è opportuno non fornire dati, ce li teniamo solo noi e il cittadino rimanga fuori da questa gestione, è assolutamente intollerabile. I dati in verità, quelli che possiede l'AMS, l'AMS stessa non ha dei centri di ricerca o dei centri statistici, quindi si appoggia all'Istat. Questa persona che viene X e dice io non posso darvi i dati, è legale o illegale questa cosa che fa? Per quanto dipende, perché ovviamente sono i dati grezzi e i dati aggregati, i dati grezzi sono a disposizione di tutti, però i dati grezzi non sono molto spesso leggibili, perché io posso fornirti anche 1200 pagine di dati grezzi, poi devono essere sostanzialmente aggregati per capire come si incrociano questi dati, perché nel momento in cui tu incroci i dati trovi la verità, questo è il lavoro che noi stiamo cercando di fare, incrociare i dati, Opsad, Istat, Eurispes, Commissione parlamentare antimafia e poi anche dati forniti dalle stesse dieci sorelle, che sono i concessionari, che però preferiscono molto spesso tacere. Noi sappiamo, per esempio, perché siamo in contatto con persone che lavorano all'interno dei concessionari che ci scrivono, che la famosa multa dei 98 miliardi, i stessi concessionari sapevano che loro sarebbero andati incontro a queste sanzioni, ma per loro era più importante saturare il mercato, entrare con le loro slot all'interno del territorio, coprire completamente il territorio, piuttosto che adempiere alla legge che gli diceva che per ogni slot e per VLT, stiamo parlando che ogni slot, ogni VLT fattura praticamente 10.000 Euro al, vabbè adesso questo dato non me lo ricordo, praticamente era più importante riempire di slot e di VLT il territorio, piuttosto che collegarlo alla rete, quindi loro stavano facendo degli illeciti sapendo e perpetuando una filosofia dell'illecito, quindi 98 miliardi sono arrivati con le 10 sorelle che erano molto più preoccupate di prendersi fette di mercato e fette di territorio, piuttosto che mettersi in regola, quindi queste sono ovviamente politiche di marketing che abbiamo detto creano patologia e creano danno in sicurezza sociale, i dati soprattutto il cittadino ce li ha davanti agli occhi tutti i giorni, basta semplicemente che si fidi del suo intuito, poi noi li pubblichiamo tutti, li studiamo e li pubblichiamo, questo è un po' il nostro lavoro. Noi dovrebbe controllare, perché praticamente la rete Sogei, siccome parliamo del... Come? Telematicamente per quanto riguarda la più grande fetta del mercato del gioco d'azzardo che sono le slot e le VLT, sono quindi il 55% del mercato. No, ha una rete informatica in cui tutte le slot e tutte le VLT dovranno essere collegate. È privata o è che tu lo sai? Questa è una domanda molto importante, questa che hai fatto è una domanda estremamente importante per capire esattamente quello che sta succedendo, perché la rete è stata costruita ed è gestita dalle concessionarie, però praticamente lo Stato ha il diritto di prelazione nel momento in cui se ne vuole riappropriare. Quindi lo Stato in teoria, cioè l'autorità autonoma monopoli di Stato dovrebbe fare dei controlli a livello ispettivo che tutto funzioni, però è gestita assolutamente dalle concessionarie. Certificando potremmo dire che sono i controllati che si controllano, no? Esattamente.